Ci siamo divertiti stasera, quella è la cosa principale, una cornice di pubblico bellissima, Casamicciola veramente sembra risplendere, sembra una festa, un party enorme a cielo aperto. Insomma ci siamo divertiti e spero che vada sempre avanti così, vada sempre meglio per Casamicciola e per i casamicciolesi. Noi saremo sempre presenti per qualsiasi cosa in prima linea per Casamicciola. Mia madre è una casamicciolese doc, è di piazza Bagni e dunque quando ero bambino e stavo con lei mi portava a casa del mio buon zio che adesso non c'è più, che era Peppino Barbieri e dove lui aveva un piccolo orticello che coltivava e coltivavamo un sacco di verdure, pomodori e insomma ci divertivamo poi sempre con questi piatti dove mio zio faceva questo spaghetto col pomodoro e io lo ricordo veramente con tanta emozione e dunque era anche doveroso e giusto fare un omaggio a lui che non c'è più, che voglio tanto bene e insomma che mi ha ispirato per questa cosa.